Ritrovata l'unanimità sul contributo di sbarco. Si riparte con 1,50 euro per arrivare però a 3,50 euro per gli adulti e 2,50 euro per i bambini dai 4 agli 11 anni. Questa mattina i sindaci hanno sottoscritto la nuova proposta che prevede una fase transitoria fino al 31 dicembre 2016. Il 15 settembre prossimo si riaprirà il tavolo per definire nel dettaglio le direttive già stabilite per il 2017. Per quest'anno la gestione associata per il turismo continuerà a fare da cassa unica e ripartirà il gettito a seconda delle proporzioni decise. Il 40% va alla gestione associata del turismo, circa 600 mila euro. Il 60% viene ripartito, che sono circa 900 mila euro, agli altri comuni. Per il momento con un obbligo di almeno il 10% di manutenzione del territorio a valenza comprensoriale. Quindi è di fatto un riconoscimento dell'inizio di questa gestione di natura comprensoriale, che sarà applicata dal 2017 per esigenze poi logistiche di funzionamento. Completare un edificio senza nemmeno aver gettato le fondamenta risulterebbe molto difficile. Per cui l'impegno è quello di fare degli interventi di interesse comprensoriale, rimandando al prossimo anno un piano, un programma di opere e di interventi con gli introiti a regime. Introiti di cui abbiamo definito gli importi percentuali, che vedranno un capitolo destinato di quasi un milione di euro per le opere che riguardano il territorio di tutta l'isola d'Elba. In questa fase transitoria saranno opere minimali, di cui abbiamo già in via preliminare individuato alcune tracce, ma che dovremmo poi deliberare nel dettaglio appena si riprenderà la riscossione del contributo. Questa volta c'è stata una condivisione, diciamo, presso me totale. Al Comune Portoferraio sono state riconosciute alcune richieste. Gli altri comuni hanno aderito, il Comune Portoferraio ha preso atto di considerazione degli altri sette comuni e alla fine abbiamo chiuso in pochissimo tempo con la soddisfazione di tutti. Tutti sono d'accordo a riprendere la discussione del contributo di sbarco entro una settimana, in tempo, per la Pasqua. Nella frattempo è stata delineata anche la ripartizione per il 2017, quando il contributo dovrebbe già essere stato portato a 3,50 euro. Il 35% andrà ai comuni, un altro 35% alla gestione associata e il 30% per le opere comprensoriali, per un gettito complessivo di circa 3 milioni e 200 mila euro. Il coordinamento resterà per la gestione associata del turismo a Capoliveri per le opere comprensoriali a Portoferraio. Decideremo nel prossimo futuro, anche visto quello che è il quadro nazionale, per le navi da crociera e per l'aeroporto. Per l'aeroporto la volontà sarebbe quella di non applicare la tassa, però questo lo dobbiamo vedere perché la norma potrebbe impedirci di non applicare la tassa. Quindi probabilmente sarà applicata, poi decideremo se a 1,50, 2,50 o 3,50.